Dal Vangelo secondo Giovanni Dal Vangelo secondo Giovanni Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi chiedete quello che volete e vi sarà fatto In questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli Il Vangelo secondo Giovanni Il Vangelo secondo Giovanni Grazie a tutti.